Ma nella vita pubblica non è come al casino, quando si vince si può anche festeggiare, ma poi ci sono delle responsabilità, ci sono tanti onori, ma ci sono tanti oneri. Il fatto che il paese sta precipitando nel buio e nel gelo, da oggi, non è un problema del passato che dobbiamo consegnare agli storici, è un problema della politica e di tutti i protagonisti della politica, a cominciare da chi ha vinto le elezioni, dal Movimento 5 Stelle. Chi ha votato Grillo si aspetta qui e ora non nuove campagne elettorali, ma risposte alla sua esigenza, al suo dramma, alla sua solitudine, alla sua paura del futuro.